Oh, Ryder! Sono così felice di vederti! È quasi l'ora della cerimonia! L'aiuteremo noi, sindaco! Rubble, finisci di scavare! Se serve aiuto, Rubble, arriva in un minuto! Rocky, dopo che ha piantato l'albero, tu fisserai questa targa! Nessun problema, Ryder! Rocky! Per caso avresti un attrezzo in grado di riparare il tacco della mia scarpa rotta? Certamente! Uh! Uh! Colla! Ha visto, sindaco Goodway? Io sono bravissimo! Ecco il tacco riattaccato! Ah, che spiritoso! Ryder, anche la mini patrol può aiutare! Ok, grazie Alex! Tu e la tua squadra sorvegliate la folla in modo che non si avvicini! D'accordo, Ryder! Mini patrol! Controllate che nessuno si avvicini! Non c'è niente da guardare, gente! Smettila, cattivone! Allontanati dalla mia mini patrol! Cicoletta! No, là dentro c'è il coniglietto! Ridammela! Qualcuno salvi il mio coniglietto! Ci pensiamo noi, Alex! Sky, abbiamo un problema pennuto! Tranquillo, ci penso io, Ryder! Sì, sole! Grazie, Rubble! Nessun problema, amico! Sky, c'è il coniglietto intrappolato in quella borsa! Devi volare lassù e salvarlo! Non vado, pazza, per le aquile, ma... Prendiamo subito il volo! Non è affatto divertente! Ridammi subito, coniglietto! Brava, Sky! Coniglietto in caduta libera! Bravissimo, Sky! Ottimo lavoro, Sky! Ecco la mia cicaletta! Assicurone la sua borsetta! Attimo lavoro, Rubble! Bene, a questo punto puoi fissare la targa, Rocky! Oh, Ryder! Tu e i tuoi cuccioli risolvete sempre ogni mio problema! Cacciavite! Ben fatto, Rocky! E qua te, Guffino! Ehi, dov'è finita Tartaruga? L'ho vista andare da quella parte! Ryder! Cuccioli! Aiuto! Rubble, la tua pala può arrivare là dentro! Pala! Mi dispiace, le sbarre sono troppo strette per la mia pala! Un momento! So cosa fare! Bell'idea, Alex! Bene, tira da su! Fermo! Attimo lavoro, Alex! Questo è stato un salvataggio perfetto! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Questa puzza rende difficile la ricerca! Chase, lancia il drone! Woo! Woo! Drone! 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 Sembra una signora con una gallina in testa! Sarà il sindaco? No, è soltanto uno spaventapasseri! Proviamo più avanti, lungo la strada! Ryder, guarda! Trovate! Andiamo! Grazie al cielo ci avete trovate, Paw Patrol! È stato facile, sindaco! Ora portiamo la sua auto via di qui! Chase? Woo! Woo! Argano! Argano! Ci siamo, Chase! Woo! Argano! Traina! Bene, Rocky! Adesso tocca a te! Ricevuto, Ryder! Woo! 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 Avvitatore! Ryder, credo che questa pianta stia per rilasciare i semi da un momento all'altro! Oh-oh! Un colpo di vento e tutta Adventure Bay sarà ricoperta da fiori puzzolenti! Dobbiamo portare questo fiore lontano dalla nostra città! Ma come? Con il nuovo veicolo della Paw Patrol! Riporteremo questo fiore puzzolente a Foggy Bottom via mare! Seguitemi tutti quanti! Giubbotto salvaggente attivato! Rocky, devi venire con me! Ehm... Intendi in acqua? Sì, ma non ti bagnerai! Spingi quel nuovo pulsante sul cruscotto! Va bene! Wow! Mi hai installato un rimorchiatore! Sì, ti piace? Sì, mi piace! È bellissimo! Sai quante cose posso mettere qui dentro? Manca solo una cosa! Giubbotto salvaggente attivato! Ora possiamo sbarazzarci di questo? Ma non vorrei sporcare il mio nuovo rimorchiatore? Certo! Infatti attaccheremo un salvaggente all'argano! Così la pianta galleggerà dietro di te e la puzza non arriverà alla barca! Ottima idea! Ho anche un salvaggente! Ho anche un salvaggente! Ci siamo, sindaco! Cominciamo! Rocky! Portala via! Oh, Ryder! Sei proprio il mio eroe! Ti ringrazio infinitamente! In ogni occasione noi siamo a disposizione! È ora di riportare quella pianta a casa sua! Stiamo per fare una consegna speciale! Certo! Argano sgancia! Consegna speciale per il sindaco Hamdinger! Venite, gattini! Dopo aver consegnato quel fiore puzzolente a Adventure Bay meritiamo un po' di riposo e un po' di relax! Ah, il dolce profumo del successo! Ma cosa? Oh no! Quei semi faranno crescere tantissime piante puzzolenti! Prendeteli! Oh no! I cuccioli hanno bisogno di un bel bagno! Vi aiuto volentieri! Ehi! Dov'è finito Rocky? Sono qua! Rocky? Sei nella vasca! Puzzavo così tanto che non ho potuto resistere! Siete davvero dei bravi cuccioli! Grazie, Ryder! Pearl e la signora Wingnut sono là da qualche parte! Caspita! È così buio che non si vede niente! Chase! È ora di usare il visore! Visore notturno attivato! Pearl! Pearl ha messo di ferraglia! Fermati per favore! Trovato il robo sospetto! Sta trascinando ancora la signora Wiglust! Andiamo ad acciuffare il robosauro! Rubble, scava la buca per il dinosauro lì! Ci penso io! Rocky! Tu metti la fune qui! Semaforo verde, signore! Martello! Tira ancora un po' Facciamo in fretta! Pearl sta arrivando! Restate indietro, cuccioli! Non funziona! Penso uno fermi questo dinosauro! Chase, cerca di seguire il robosauro mentre noi salviamo la signora Wingnut! Ci pensa Chase, signore! Signora Wingnut! Se riesce a salire sul tetto, noi la veniamo a prendere! Nessun problema! Sky! Devi recuperare la signora Wingnut! Sta sul tetto della roulotte! Prendiamo subito il volo! Obiettivo in vista! Ottimo, Sky! Ora fai scendere il gancio! Cielo! Ora, Rubble, con la gru sposterai la roulotte da quella roccia! Pronti al traino! Ryder, ho appena raggiunto il robosauro! Bene, usa il sedile a razzo per salirci su, poi cerca l'interruttore! Ricevuto! Sedile a razzo! Ryder, ho appena scoperto la causa del malfunzionamento! Nella cabina ci sono delle marmotte che stanno mangiando i cavi! Delle marmotte clandestine? Arriviamo subito! Grazie, cuccioli! Appena in tempo per il mio programma preferito! Un salvataggio fatto, uno da fare! Oh, oh! Ryder! Stiamo arrivando, Chase! Rocky, seguimi! Devi sbrigarti, Ryder! Davanti a noi c'è un burrone e il robosauro non si ferma! Resisti, Chase! Attireremo fuori le marmotte! Rocky, carica il tuo sparanoccioline! Sparanoccioline è pronto! Fuoco a volontà, Rocky! Ciao, ciao! Ci vediamo! Ryder ha funzionato! Ed ora... Devo trovare l'interruttore! Presto, Chase! Ci è mancato davvero poco! Ma ottimo lavoro! Sono felice di rivederti! Più felice di rivedere te, tesoro! Grazie, Ryder! Grazie, cuccioli! Siamo davvero felici che si sia risolto tutto al meglio! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Cuccioli, vi meritate un pasto speciale! Hamburger per colazione! Sì! Yuhuu! Se mi promettete di stare alla larga dal mio robosauro, vi preparerò degli hamburger speciali alle noccioline! Oh, Ryder, grazie per essere arrivati subito! Per favore, fai in fretta! Presto, Rubble! Solleva la zucca con la gru! Ci penso io! Gru! Wow! È pesantissima! Ben fatto, Rubble! Allora, Marshall, è il tuo momento adesso! Subito! Scala! E ora, su! Sono pronta! C'è mancato poco! Quella zucca mi è quasi ridotta in poltina! A quanto pare c'è una mucca da salvare! Rubble, afferra quel broccolo così Bettina potrà scendere! Ci penso io, Ryder! Rubble entra in azione per salvare la situazione! Come sta, Bettina? Mi sembra un po' stordita! So io come farla riprendere! Chi vuole il mais? Ecco, sta già meglio! Che succede? Oh-oh! Via! Attenzione! Oh-oh! Stanno rotolando verso la città! Forza, cuccioli! Cosa? Oh-oh! Dobbiamo sbrigarci! Guardate! Possiamo deviare i pomodari con quei tronchi! Ci penso io! Ce l'hai fatta, Rubble! Non è ancora finita! Quei pomodari stanno ancora rotolando! Pomodori giganti! Ora posso dire di aver visto tutto! Oh-oh! I pomodori stanno rimbalzando ovunque! È più facile fermarli se vanno nella stessa direzione! Rocky! Zuma! Bisogna bloccare quella banda di pomodori! Certo, Ryder! Possiamo farcela! La palla è passata a voi! Capito? Pomodori? Passata? Sì! Stiamo arrivando! Bene, cuccioli! Bisogna spingere questi pomodori verso la città! Diamoci da fare! I-ha! È ora di radunare la mandria! O forse è meglio dire l'insalata! E qui-ei-ei! Ma Ryder, in che modo riusciremo a farli smettere di rotolare? È la seconda parte del piano! I pomodori possono rotolare, ma se diventano sugo non rotolano più! Oh! Chase, serve la tua rete per passare i pomodori e farne del sugo! Vai al ristorante del signor Porter! Tranquillo! Ci pensa Chase! Zuma! Rubble! Marshall! Fate arrivare i pomodori al ristorante! Rocky, abbiamo bisogno del tuo camion! Andiamo! Bene, Chase! Tocca a te! Uh! Rete! Perfetto! Bene, Rocky! Con il tuo camion porta subito il bidone dietro la rete! Io farò una rampa per far saltare i pomodori! Subito, Ryder! Bene! Così dovrebbe bastare! Vedo i pomodori! Stanno arrivando! Ecco fatto! Bel lavoro, cuccioli! Oh, grazie Ryder! Hai di nuovo risolto il problema! Anzi, due! Due problemi? Certamente! Hai fermato i pomodori impazziti e... Basta aggiungere basilico e origano ed è pronto il sugo per la pizza! In ogni occasione noi siamo a disposizione! Ehi! Rocky! Marshall! C'è ancora una cosa che devi fare con il tuo cannone! Ok! Ma dopo aver inseguito un po' i pomodori mi sento un pochino... Cotto! Capito? Pomodoro! Cotto! Cambiamo, Marshall! Eh sì! Questa sarà sicuramente una pizza da record mondiale, signor Porter! Non sarebbe stato possibile senza le verdure giganti della signora Yumi! È stato un piacere! E senza la popatrol! Manca ancora un po' di sugo, Marshall! Arriva, signor Porter! Sugo! Siete proprio dei bravi cuccioli! E questo è proprio un guansugo! Nnam!